cosa ci potevamo inventare in italia per discutere del nulla la questione del merito allora la destra ha aggiunto merito al ministero dell'istruzione che vuol dire niente è come aggiungere bontà a quello del welfare e dall'altro lato subito la sinistra non ha perso tempo ha detto il merito è classista ora in mezzo a queste due posizioni che non vogliono dire niente c'è la questione del merito è una questione vera perché il merito non è rappresentato dai risultati che si raggiungono ma dai risultati che si raggiungono rispetto alle posizioni di partenza cioè se una persona si laurea venendo da una famiglia che è svantaggiata o difficile complicata o priva di risorse è chiaro che gli va riconosciuto più di quello che viene riconosciuto a me per laurearmi perché io ho condizioni più semplici e quindi cosa fa lo stato beh lo stato lo premia lo aiuta gli dà le borse di studio lo supporta gli fa il tempo pieno in tutti i gradi di studio lo aiuta a avviarsi alla lettura gli fornisce libri gratuitamente questo è lo sforzo e parlare di merito che è una questione complessa va fatto a partire da come posso dire la concretezza che usare questo valore implica e implica un lavoro potentissimo che in italia non viene fatto su questo tema e la seconda questione è obiezione io non posso parlare di merito perché vengo da una famiglia agiata ma questa è una stupidaggine chiunque qualunque sia la tua posizione di partenza ci sono comportamenti che sono meritori e comportamenti che non sono meritori è meritorio il fatto di cercare per esempio se come è caduto a me guadagnando molto come manager dire no io preferisco guadagnare meno ma cercare di dare indietro qualcosa al paese credo che sia meritorio e se noi stabiliamo il principio per cui chi è abbiente non può avere merito in ogni caso cioè non c'è merito beh allora sdoganiamo tutti i comportamenti più egoisti possibili ecco tutto questo è l'esempio perché è interessante una discussione fessa ma è l'esempio del dibattito sul nulla che si fa in italia invece di cercare di capire cosa implica l'adozione del merito come parametro per premiare le persone che è una discussione complessa discutiamo del principio astratto del merito aggiungendolo a un ministero o contestandolo per principio questo è il modo per far sì che questa società rimanga quello che è una società profondamente ingiusta è una società profondamente ignorante dove chi perde è sempre quello che parte da condizioni svantaggiate però intanto parliamo del merito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti